buongiorno e buonasera a tutti e bentornati sul podcast di uno scrittore sul web se state ascoltando questo audio su podcast vi ricordo che c'è anche il mio canale youtube sempre uno scrittore sul web con recensioni audio libri e tanti altri contenuti altrimenti se siete su youtube siete in ritardo questo contenuto è uscito su podcast già da un po di tempo e a proposito di youtube tra un po rispetto all'uscita di questo podcast porterò la recensione della signorina fifi di guide maupassant la mia pronuncia francese è eccezionale e ho deciso di portarvene nel tempo magari uno oggi e uno tra qualche settimana per non essere ripetitivo e monotono un paio dei racconti che ci sono all'interno di questa raccolta che mi sono piaciuti e mi hanno divertito particolarmente e quindi oggi vorrei proprio proprio portarvi per cominciare la signorina fifi appunto racconto omonimo da cui prende il nome la raccolta che in realtà poi sarebbe il secondo volume della raccolta ma questa è un'altra storia allora fino ad essere c'è stata la musica naturalmente di sottofondo ma per godere meglio dell'audio la togliamo e partiamo il racconto è molto breve durerà pochi minuti il maggiore conte di farlsberg comandante prussiano finiva di leggere la sua posta con la schiena sprofondata in una grande poltrona imbottita e i piedi stivalati sull'elegante marmo del caminetto sul quale i suoi speroni in tre mesi da tanto durava l'occupazione del castello duville avevano inciso due buchi considerevoli che si incavavano ogni giorno un poco di più una tazza di caffè fumava su un tavolino intarsiato cosparso di macchie di liquori di bruciacchiature di sigari di incisioni del temperino dell'ufficiale conquistatore che a volte smettendo di temperare una matita tracciava sul mobile grazioso cifre o disegni secondo l'estero delle sue indolenti fantasticherie quando ebbe finito di leggere le sue lettere ed ebbe scorso i giornali tedeschi che il suo furiere gli aveva appena portati il maggiore si alzò e dopo aver gettato sul fuoco qualche grosso pezzo di linea verde quei signori infatti per scaldarsi stavano a poco a poco abbattendo tutto il parco si accostò alla finestra la pioggia veniva giù a gran fiotti una pioggia normanna che pareva scagliata da una mano furiosa una pioggia tutta di sbieco spessa come un sipario come un muro a rigoblique una pioggia tutta sferzate tutta schizzi che annegava ogni cosa una vera pioggia dei dintorni di rouen vaso da notte della francia per parecchio tempo l'ufficiale se ne stette a guardare le aiole inondate e laggiù l'andella in piena che straripava guardava e tamburellava con le dita sul vetro un waltzer del reno quando un rumore lo fece girare di scatto era il suo aiutante il barone di kelweigstein che aveva un grado equivalente a quello di capitano il maggiore era un gigante largo di spalle ornato di una lunga barba che gli si allargava con un gran ventaglio sul petto l'insieme della sua alta solenne figura suggeriva l'idea di un pavone militare un pavone che portasse la coda spiegata sotto il mento aveva occhi azzurri freddi e dolci una guancia sfregiata da una sciabolata della guerra d'austria aveva fama di essere un uomo valoroso oltre che un bravo ufficiale il capitano piccolino rubicondo panciuto stretto dall'uniforme aveva una cortissima barba ma di un pelo rosso così ardente che sotto certi riflessi faceva pensare che quella testa fosse cosparsa di fosforo il buco di due denti perduti non sapeva come in una notte di baldoria li faceva sputare con molta difficoltà parole confuse pressoché incomprensibili ed era calvo soltanto sulla sommità del cranio tonsurato come un frate con una piccola corona di capelli corti ricciuti dorati e lucenti intorno a quella chiazza di pelle nuda il comandante gli strinse la mano e trangugiò ad un fiato la sua tazza di caffè la sesta dalla mattina ascoltando il rapporto del suo subalterno sugli incidenti verificatisi durante il servizio poi tutti e due si accostarono alla finestra dichiarando che non c'era da stare allegri il maggiore uomo tranquillo con una moglie in patria s'adattava a tutto ma il barone capitano gaudente incallito frequentatore di bordelli forse nato donnaiolo si rodeva dalla rabbia di essere prigioniero da tre mesi della castità obbligatoria di quel posto in capo al mondo udendo bussare alla porta il comandante gridò ad entrare e un uomo uno dei loro soldati automi apparve sulla soglia annunciando con la sua sola presenza che il era pronto nella sala da pranzo trovarono i tre ufficiali sobalterni un tenente otto di grösling due sottotenenti fritz schoenamburg e il marchese wilhelm dirich un biondino sprezzante brutale con i soldati duro con i vinti e violento come un'arma da fuoco dall'arrivo in francia i suoi camerati lo chiamavano esclusivamente signorina fifì quel soprannome gli veniva dal suo aspetto civettuolo dal suo vitino sottile che pareva serrato in un busto dalla sua faccia pallida nella quale apparivano appena i baffetti incipienti dall'abitudine di esprimere il suo sovrano disprezzo per uomini e cose usando continuamente la locuzione francese fifì dong che pronunciava con un leggero sibilo la sala da pranzo del castello duville era un lungo e lussuoso locale nel quale gli antichi specchi costellati di colpi di pistola e i grandi arazzi di fiandra squarciati a colpi di sciabola e qua e là ridotti a brandelli cadenti rivelavano come la signorina fifì si svagasse durante le sue ore d'ozio alle pareti tre ritratti di antenati un guerriero tutto vestito di ferro un cardinale un presidente fumavano in lunghe pipe di porcellana mentre in una cornice d'orio sbedita dagli anni una nobile signora dal seno compresso ostentava con molta arroganza un enorme paio di baffi disegnati con il carbone il pranzo degli ufficiali si svolse quasi in silenzio in quella sala mutilata buia per il temporale rattristante per la sua immagine di disfatta dal vecchio pavimento di faggio ormai tramutato in quello di una bettola finito di mangiare quando cominciarono a fumare a bere gli ufficiali presero a parlare come ogni altro giorno della propria noia le bottiglie di liquori passavano di mano in mano tutti arrovesciati nelle loro sedie bevevano a piccoli sorsi continui senza neppure togliersi di bocca i lunghi cannelli ricurvi delle pipe terminanti in fornelli a forma d'uovo grossolanamente dipinti come per sedurre gli ottenotti quando i loro bicchieri erano vuoti li riempivano con gesti di rassegnata stanchezza ma la signora innafifi rompeva ogni tanto il suo ed un soldato immediatamente gliene porgeva un altro una nebbia di acre fumo li avvolgeva ed essi sembravano sprofondare in una ubriachezza sonnolente e triste in quel cupo in ebetimento della gente che non ha nulla da fare ma ad un tratto il barone si scosse ebbe uno scatto di ribellione gridò per dio non può andare avanti così bisogna inventare qualcosa all'unisono il tenente otto il sottotenente fritz due tipici tedeschi dalle fisionomie pesanti e gravi chiesero ma cosa mio capitano il barone meditò qualche secondo poi riprese cosa ebbene occorre organizzare una festa se il comandante ce lo permette il maggiore si tolse la pipa di bocca che cosa capitano il barone li si accostò mi incarico di tutto io comandante spedirò a ruan dovere che ci condurrà qui qualche donna so dove se ne possono trovare e qui allestiremo una cena non ci manca nulla almeno passeremo una serata decente il conte di farsberg alzò le spalle e sorrise lei è pazzo amico mio ma tutti gli ufficiali erano in piedi e circondarono il loro capo supplicandolo di aver permesso al capitano comandante è tutto così triste qui e alla fine il maggiore cedette sia disse immediatamente il barone mandò a chiamare dovere era costui un vecchio sotto ufficiale che non era mai stato visto ridere ma che eseguiva fanaticamente qualsiasi ordine dei suoi capi sull'attenti con la faccia impassibile ricevette le istruzioni del barone poi uscì e cinque minuti dopo un carrettone militare riparato da un da mugnaio a cupola e tirato da quattro cavalli al galoppo partì sotto la pioggia furiosa subito parve che un brivido risvegliasse tutti gli ufficiali si riscossero dalle loro pose languide s'animarono in faccia e presero a discorrere sebbene continuasse a venire giù acqua con immutata furia il maggiore affermò che adesso c'era meno buio e il tenente otto annunciò con convinzione che il cielo stava schiarendo la signorina fifì poi sembrava non poter più stare ferma si levava tornava a sedersi i suoi occhi chiari e duri cercavano qualcosa da rompere ad un tratto guardando la dama con i baffi il biondino estrasse dal fodero la sua pistola tu non la vedrai la nostra festa disse e senza abbandonare la propria sedia prese la mira uno dopo l'altro due proiettili forarono gli occhi del ritratto poi il biondino gridò e ora facciamo la mina e bruscamente le conversazioni furono interrotte tutti gli altri sembrarono pieni d'un grande interesse la mina era un'invenzione del biondino il suo modo di distruggere il suo divertimento preferito lasciando il castello il legittimo proprietario il conte fernandamuaduville non aveva avuto il tempo di portarsi via o di nascondere qualcosa ad eccezione dell'argenteria che aveva celato nel buco di un muro e siccome egli era molto ricco ed amava il fasto il suo salone principale la porta del quale dava sulla sala da pranzo aveva avuto prima della sua fuga all'aspetto di una galleria ad un museo alle pareti erano appesi tele disegni acquarelli di valore mentre sui mobili sulle mensole nelle eleganti vetrine ninnoli vasi e vasetti statuette figurine di porcellana di sassonia vicina antichi avori e vetri di venezia a mille a mille popolavano il vasto locale della loro preziosa e bizzarra moltitudine ormai però di quegli oggetti non ne restavano più non erano stati rubati il maggiore conte di farlsberg non l'avrebbe mai permesso ma la signorina fifì ogni tanto faceva la mina con vero gran divertimento di tutti gli altri ufficiali per cinque minuti il piccolo marchese andò dunque a cercare nel salone quello che gli occorreva tornò portando una piccola graziosa teiera cinese color di rosa la riempì di polvere da sparo e attraverso il becco vi introdusse delicatamente una lunga miccia l'accese poi corse a rimettere a posto quella macchina infernale nel salone contiguo rientrò in tutta fretta e chiuse la porta tutti i tedeschi erano in attesa in piedi con facce sorridenti di infantile curiosità e non appena l'esplosione ebbe scosso il castello si precipitarono a vedere tutti insieme la signorina fifì entrò prima di tutti e si mise a battere le mani in un delirio d'entusiasmo davanti a una venere di terracotta cui la testa era finalmente saltata via ognuno raccoglieva pezzetti di porcellana meravigliandosi alle bizzarre dentellature di quei frammenti prendendo visione dei nuovi danni discutendo quale distruzioni fossero state prodotte dall'esplosione precedente il maggiore considerava con un'aria paterna il salone devastato da quella mitraglia alla nerone e disseminato di frantumi d'oggetti artistici fu il primo ad uscirne dichiarando questa volta è riuscita molto bene la mina ma nella sala da pranzo il fumo dell'esplosione era entrato a gran fiotti mescolandosi a quello del tabacco non vi si poteva più respirare il comandante spalancò la finestra e tutti gli ufficiali tornati indietro per bere un ultimo bicchierino di cognac si avvicinarono l'aria umida si ingolfò nella stanza portandovi una specie di pulviscolo d'acqua che si attaccava alle barbe e un odore di inondazione gli ufficiali guardavano i grandi alberi accasciati sotto l'acquazzone la vallata annebbiata da quello sgorgo delle nubi cupe e basse lontano il campanile della chiesa dritto come una punta grigia tra la pioggia a dirotto da quando i tedeschi erano arrivati il campanile non suonava più quella era stata l'unica resistenza che gli invasori avessero incontrato in quei paraggi il campanile il curato non aveva affatto ricusato di accogliere nutrire i soldati prussiani aveva persino accettato più volte di bere una bottiglia di birra o di bordeaux con il comandante nemico che si serviva spesso di lui come di un intermediario conciliante ma non si doveva chiedergli neppure un rintocco della sua campana piuttosto che obbidire il curato si sarebbe fatto fucilare era il suo modo di protestare contro l'invasione protesta pacifica protesta del silenzio la sola diceva lui che si addicesse ad un prete uomo di bontà e non di violenza e tutti in un raggio di dieci leghe lo davano la fermezza l'eroismo dell'abate chantavon che osava affermare il lutto pubblico che lo dichiarava con l'ostinato silenzio della sua chiesa l'intero villaggio entusiasmato per questa resistenza era pronto a sostenere sino all'estremo il suo pastore a tutto osare considerando quella muta protesta come la difesa dell'onore nazionale pareva a quella gente di paese di avere a quel modo ben meritato dalla patria più di belforte di strasburgo di aver dato almeno un esempio equivalente che avrebbe reso immortale il nome del villaggio e ad eccezione di questo non rifiutavano nulla ai vittoriosi prussiani il comandante e i suoi ufficiali ridevano insieme di quel coraggio innocuo e dato che tutta la regione si dimostrava docile e servizievole nei loro riguardi tolleravano volentieri il suo muto patriottismo soltanto il piccolo marchese Wilhelm avrebbe voluto obbligare la campana a suonare era irritato dalla condiscendenza politica del suo superiore verso il prete e ogni giorno pregava il comandante di lasciargli fare din don almeno una volta una sola piccola volta tanto per divertirsi un poco e chiedeva questo con graziette da gattina con moine da donna con la dolcezza di voce di un amante assalita da un desiderio pazzo ma il comandante non cedeva e la signorina fifì per consolarsi ricorreva al gioco della mina nel castello duville i cinque uomini rimasero là in gruppo per qualche minuto respirando quell'aria umida il sottotenente fritz poi disse con una risata pastosa decisamente quelle signorini non affrando per il tempo per loro passecciata e così si separarono ognuno di loro s'occupò del proprio servizio il capitano da parte sua aveva molto da fare per i preparativi della festa quando si riunirono nuovamente a sera scoppiarono a ridere vedendosi tutti inghingeri e lustri come i giorni delle grandi parate impomatati profumati rinfrescati i capelli del comandante sembravano meno grigi ora della mattina il capitano si era rasato conservando solo i baffi una fiamma sotto il naso nonostante la pioggia la finestra fu lasciata aperta e a turno uno andava ad ascoltare alle 6 e 10 il barone segnalò un lontano rumor di ruote si precipitarono tutti e ben presto arrivò il carrettone con i suoi quattro cavalli sempre al galoppo infangati dappertutto fumanti e sbuffanti cinque donne misero piede sulla scalinata cinque belle ragazze scelte con cura da un amico del capitano cui dovere aveva recato un biglietto del suo ufficiale non si erano fatte pregare sicure di essere ben pagate conoscendo ormai bene i prussiani dopo tre mesi che trattavano con loro adattandosi con serenità a subire gli uomini come gli eventi è il nostro mestiere dopo tutto si erano dette durante il viaggio certo per rispondere a qualche segreto morso di un residuo di coscienza subito tutti entrarono nella sala da pranzo illuminata pareva ancor più lugubre nel suo pietoso sfacelo e la tavola sopra carica di cibi di ricco vasellame e dell'argenteria scovata nel muro ovvero aveva nascosta il suo padrone conferiva a quel luogo l'aspetto di una taverna di banditi riuniti a cena dopo un saccheggio il capitano raggiante si impadronì delle donne come di oggetti a lui familiari giudicandole abbracciandole fiuttandole calcolandone il valore come femmine di piacere e dato che i tre ufficiali giovani volevano prendersene una per ciascuno egli si oppose con autorità riservandosi di fare la spartizione secondo giustizia cioè seguendo i gradi in modo da non offendere minimamente la gerarchia allora per evitare ogni possibile discussione ogni contestazione e ogni sospetto di parzialità allineò le ragazze per ordine d'altezza e rivolgendosi alla più grande in tono di comando le chiese il tuo nome con voce sonora quella rispose pamela e il capitano proclamò numero uno la nominata pamela è aggiudicata al comandante poi dopo aver baciato biondina la seconda in segno di possesso offri al tenente otto la grossa amanda eva pomodoro al sottotenente fritz e la più piccola rachel una bruna giovanissima dagli occhi neri come macchie di inchiostro un ebrea il naso della quale lievemente arcuato confermava la regola che attribuisce becchia d'uncino a tutta la razza semita al più giovane ufficiale al fragile marchese wilhelm dirich tutte e cinque del resto erano piuttosto belloce in carne senza lineamenti ben distinti rese presso a poco uguali in quanto a figure a pelle dalle quotidiane pratiche d'amore e dalla vita in comune delle case di malaffare i tre giovanotti pretendevano di portarsi immediatamente via le ragazze loro assegnate con il pretesto di un'offerta di spazzole e di sapone a scopo di gene ma il capitano si oppose saggiamente a tale manovra affermando che quelle donne erano pulite a sufficienza per mettersi a tavola e che coloro i quali fossero saliti poi avrebbero voluto cambiare scendendo e avrebbero scompaginato le altre coppie la sua esperienza trionfò vi furono solo molti baci baci d'attesa ad un tratto rachel si sentì soffocare e tossissino alle lacrime sbuffando fumo dalle narici il marchese con la scusa di baciarla le aveva riempito la bocca del fumo del suo sigaro la ragazza non si arrabbiò non disse una parola ma guardò fissamente il suo possessore con un fuoco d'ira in fondo agli occhi neri poi tutti si sedettero persino il comandante sembrava entusiasta aveva alla propria destra pamela alla propria sinistra biondina e dichiarò spiegando il suo tovagliolo ha avuto un'eccellente idea capitano gli ufficialetti otto e fritz educati come se si fosse trattato di donne di società intimidivano un poco le loro compagne ma il barone di chelweigstein scatenato nel suo vizio esultava lanciava battute licenziose pareva aver preso fuoco con quella sua corona di cappelli rossi faceva il galante in francese del reno e i suoi complimenti da taverna sputate attraverso il foro dei due denti rotti venivano fuori in mezzo a raffiche di saliva le donne non capivano nulla del resto e la loro intelligenza sembrò svegliarsi solo quando il capitano sputò parole oscene espressioni crude storpiate dal suo accento allora all'unisono quelle cominciarono a ridere come folli lasciandosi cadere sui ventri dei loro vicini ripetendo i termini che il barone prese subito a storpiare per far dire loro sudicerie le donne ne vomitavano sfrenatamente già ubriache alle prime bottiglie di vino e ridiventando se stesse riaprendo la porta alle loro abitudini baciavano i baffi di destra e quelli di sinistra pizzicavano le braccia e mettevano grida furiose bevevano in tutti i bicchieri cantavano ritornelli francesi e pezzi di canzoni tedesche appresi durante i loro rapporti quotidiani con il nemico presto anche gli uomini eccitati da quella carne femminile che avevano sotto gli occhi e sotto le mani si scatenarono urlando rompendo il vase lame mentre alle loro spalle soldati impassibili gli servivano soltanto il comandante conservava un certo ritegno la signorina fifì aveva preso rachel sulle ginocchia e eccitandosi a freddo le baciava pazzamente i riccioli debano della nuca fiutando nel lievissimo intervallo tra veste e carne il dolce calore del corpo di lei tutto il sentore del suo corpo la pizzicava con furore attraverso la stoffa facendola gridare era invasato da una rabbiosa ferocia assillato dal suo bisogno di guastare qualcosa e a tratti abbracciandola la stringeva come per fonderla a se stesso e posava a lungo le sue labbra sulla fresca bocca dell'ebrea la baciava sino alla perdita del fiato ma poi la morse così profondamente che un rivoletto di sangue scivolò sul mento della ragazza e colò nella sua scollatura ancora una volta ella lo guardò fissamente in faccia poi pulendosi la ferita mormorò certe cose si pagano quello si mise a ridere e duramente ti pagherò disse arrivarono alla frutta fu versato champagne il comandante si alzò e con lo stesso tono con il quale avrebbe brindato alla salute dell'imperatrice augusta disse alle nostre dame ed ebbe inizio una serie di brindisi di brindisi di una galante ria da soldatacci e da beoni pieni di oscenità resi ancor più brutali dall'ignoranza della lingua uno dopo l'altro si alzarono cercando di essere spiritosi sforzandosi di ottenerli larità e le donne che non si reggevano più per il vino con gli occhi opachi le labbra impastate applaudivano freneticamente ogni volta il capitano volendo certamente conferire all'orgia un carattere galante alzò ancora una volta il suo calice e disse alle nostre vittorie sui cuori allora il tenente otto una specie d'orso della foresta nera si alzò in piedi infiammato saturo di vino e preso improvvisamente da patriottismo alcolico gridò alle nostre vittorie sulla francia ubriache come erano le donne tacquero subito e rachel tutta fremente si girò per ribattere conosco francesi davanti ai quali non lo ripeteresti ma il piccolo marchese tenendola sempre sulle ginocchia scoppiò a ridere reso gaio dal vino io non ne ho mai visti appena compariamo noi loro tagliano la corda la ragazza esasperata gli gridò in faccia menti porco per un secondo egli la guardò con i suoi occhi chiari fissamente come guardava i quadri che sforacchiava colpi di pistola poi riprese a ridere a parlane proprio bellezza saremmo proprio qui se loro fossero coraggiosi e s'animava siamo i loro padroni la francia è nostra con uno scatto la ragazza abbandonò le sue ginocchia e ricadde sulla propria sedia quello si alzò tesi il suo carice sino al centro della tavola e ripete a noi la francia i francesi i boschi i campi le case di francia gli altri completamente ubriachi scossi improvvisamente da un entusiasmo guerriero un entusiasmo di bruti afferrarono i loro bicchieri vociferando viva la prussia e li votarono d'un fiato le ragazze non protestavano minimamente ridotte in silenzio strette dalla paura anche rachel stava zitta impotente a rispondere allora il piccolo marchese posò sulla testa dell'ebrea il suo calice colmo di champagne di nuovo e gridò a noi anche tutte le donne di francia e la si alzò così rapidamente che il cristallo rovesciato versò come per un battesimo il vino dorato nei suoi cappelli neri e cadde frantumandosi a terra le tremavano le labbra la ragazza sfidava con lo sguardo l'ufficiale che continuava a ridere balbettò con la voce strozzata dall'ira no 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 questo non è vero non le avrete mai le donne di francia l'altro si mise a sedere per poter ridere a proprio agio e cercando l'accento parigino disse questa è proprio buona proprio buona cosa sei venuta a fare qui allora carina interdetta la ragazza tacque non capiva bene nel suo turbamento poi quando ebbe afferrato quello che le era stato detto li gridò contro indignata con vehemenza io io non sono una donna io sono una prostituta proprio quello che ci vuole per i prussiani non aveva ancora finito la sua frase che l'ufficiale la schiaffeggiò in pieno mentre quello alzava ancora una volta la mano nella pazzia dell'ira e la afferrò dalla tavola un coltellino da frutta con la lama d'argento e con tanta rapidità che nessuno sul momento vide nulla glielo conficcò nel collo proprio nel punto dove comincia il petto una parola che lui stava pronunciando gli venne troncata in gola rimase a bocca aperta con uno sguardo spaventoso tutti gli ufficiali scattarono in piedi ruggendo ma dopo aver gettato la propria sedia tra le gambe del tenente otto che andò lungo per terra la ragazza colse alla finestra l'aprì prima che potessero raggiungerla e si slanciò nella notte sotto la pioggia che seguitava venire giù in due minuti la signorina fifì esalò l'ultimo respiro allora frizzi otto sguainarono le sciabole e avrebbero voluto massacrare le donne che si aggrappavano alle loro ginocchia il maggiore astento impedì un tale macello fece chiudere in una stanza sotto la guardia di due soldati le quattro donne terrorizzate poi avendo distribuito i suoi uomini come per una battaglia organizzò la caccia alla fuggiasca sicuro di catturarla 50 soldati sferzati da minacce furono sguinzagliati nel parco 200 altri perlustrarono il bosco e tutte le case della valle la tavola sparecchiata in un istante serviva ora da letto mortuario e i quattro ufficiali rigidi non più ubriachi con le grinte dure degli uomini d'arma in servizio stavano dritti vicino alle finestre scrutando la notte il torrenziale acquazzone imperversava sempre uno scrosciare continuo riempiva le tenebre un fiottante mormorio d'acqua che cade ed acqua che scorre d'acqua che gocciola ed acqua che torna a zampillare d'improvviso un colpo d'arma da fuoco risuonò poi un altro più lontano e per quattro ore si continuarono a udire di tanto in tanto detonazioni vicino lontane e grida di adunata parole straniere lanciate come richiamo da voci gutturali la mattina tutti rientrarono due soldati erano stati uccisi e tre altri feriti dai loro stessi camerati nell'ardore della caccia e nella confusione di quell'inseguimento notturno ma rachel non era stata trovata allora gli abitanti del posto vennero terrorizzati le loro abitazioni furono messe a soquadro tutta la contrada fu percorsa in ogni senso frugata sconvolta sembrava che l'ebrea non avesse lasciato la minima traccia del proprio passaggio quando fu informato il generale dette ordine di mettere a tacere quella faccenda perché non voleva dare cattivi esempi all'esercito e inflisse una pena disciplinare al comandante il quale punì i propri subalterni il generale aveva detto non si fa la guerra per divertirsi e per spassarsela con le prostitute e il conte di farlsberg esasperato decise di vendicarsi sul paese dato che gli occorreva un pretesto per infierire senza timori volle vedere il curato e gli ordinò di suonare la campana per il funerale del marchese d'Aeric contro ogni aspettativa il prete si dimostrò docile umile pieno di riguardi e quando il corpo della signorina fifì portato dai soldati preceduto in seguito circondato da soldati che marciavano con tanto di fucile caricato lasciò il castello d'Auville diretto al cimitero per la prima volta la campana suonò a morto con un certo brio come se una mano amica la carezzasse sono ancora quella sera e anche il giorno dopo e ogni giorno rintoccò a volontà a volte persino la notte si metteva in movimento da sola e lanciava nell'ombra pian piano due o tre suoni animata da allegri improvvise inspiegabilmente sveglia tutti i paesani la dissero allora stregata e nessuno ad eccezione del curato e del sacrestano si avvicinò più al campanile una povera ragazza viveva lassù nell'angoscia e nella solitudine nutrita furtivamente da quei due uomini e vi rimase sino alla partenza delle truppe tedesche poi una sera il curato fattasi prestare la carretella del fornaio condusse lui stesso la sua prigioniera sino alla porta di ruolo la giunti il prete la bracciò la ragazza scese e con molta fretta ritornò alla casa di malaffare la padrona della quale la credeva ormai morta ne fu tirata fuori qualche tempo dopo da un patriota senza pregiudizi innamorato di lei per la sua bella azione invaguitosi di lei per il suo bell'aspetto costui la sposò feci di lei una signora e come signora l'ebrea non fu da meno di tante altre questo era la signorina fifì di gide moposon un raccontino che fa parte appunto di questa raccolta di racconti chiamato la signorina fifì vi lascio qua sotto il link amazon nella descrizione della puntata in modo che se voleste potrete acquistarlo tranquillamente facendovelo spedire a casetta senza muovervi da casa anche perché non sono sicuro che in libreria si possa trovare senza ordinarlo quindi tanto vale farselo arrivare direttamente col corriere allora questo raccontino a me ha divertito molto ed è stato il primo racconto che io abbia mai letto di gide moposon mi è piaciuto molto perché ho scoperto tutta una serie di cose di questo autore per esempio il fatto che abbia un senso dell'umorismo notevole anche nel trattare temi che comunque sarebbero spinosi in realtà in questo racconto moposon di cosa parla parla della guerra franco prussiana che è avvenuta a fine ottocento e quindi del fatto che ci fosse almeno una parte di francia occupata dalle truppe prussiane che non è proprio una cosa allegra eppure si nota immediatamente anche probabilmente per un po di patriottismo e di nazionalismo comunque non passano era francese il modo in cui descrive i soldati prussiani e le loro attività li rende ridicoli sono tutti delle caricature sia esteticamente che linguisticamente che comportamentalmente si comportano un po come delle bestie no rovinano il mobilio i quadri e gli oggetti di valore si comportano in maniera discutibile fumano sparano alle pareti vanno a prostitute fanno feste licenziose insomma li prende abbastanza per il culo ecco detto proprio chiaramente e ogni personaggio per quanto sia un racconto breve viene caratterizzato in maniera abbastanza netta con pochissimi tratti cioè è evidente sin da subito che la signorina fifì è una di quelle teste di non sono sicuro di poter dire le parolacce senza essere censurato quindi non le dirò comunque una testa di rapa e si vede immediatamente dal suo modo di parlare delle sue azioni si vede quell'altro che è un libertino senza denti con i capelli rossi il comandante farlberg mi pare che fosse comandante il grado che cerca di avere quella dignità di mantenere quella dignità nonostante evidentemente le cose intorno a lui vadano del tutto a rotoli quindi è tutto molto simpatico e divertente e allo stesso tempo appunto parla di un tema comunque caro ai francesi e anche abbastanza spinoso come la guerra c'è molto orgoglio dentro anche per la reazione della donna e io trovo anche particolarmente notevole il fatto che la scelta di Mopassano sia stato di dare a un personaggio femminile ebreo a fine ottocento in Francia questo ruolo eroico tant'è che lui stesso alla fine del racconto dice un uomo privo di pregiudizi perché privo di pregiudizi in parte perché è prostituta in parte perché ebrea poi vabbè passerei sopra il fatto che parla del fatto che la donna si sposi con un parigino se si sposa con un parigino evidentemente non ebreo è palesemente di un rito cristiano cattolico che stiamo parlando per il matrimonio però vabbè chi se ne frega è un raccontino anche perché bisogna ricordarsi e lui ce lo ricorda comunque più di una volta nello scrivere gli ebrei in generale non hanno mai goduto di eccessiva popolarità e non molto dopo soltanto 60 anni dopo rispetto alla guerra franco prussiana ci sarà la seconda guerra mondiale e non è che in Francia non ci saranno episodi di razzismo antisemitismo ammazzamenti di ebrei francesi che denunciano i vicini ebrei eccetera eccetera ci saranno anche tanti episodi dall'altra parte in questo racconto stesso il prete ospita nel campanile della sua chiesa la prostituta ebrea in fuga dall'invasore prussiano quindi comunque c'è della bontà comunque Ghidembo Possam mi è piaciuto molto questo racconto è molto carino molto significativo secondo me ve ne consiglio la lettura vi ricordo di nuovo che il link amazon per acquistarlo è qua sotto tra l'altro vi ricordo che se state ascoltando questo episodio su youtube è uscito già da tempo in formato podcast quindi iscrivetevi al mio podcast vi lascio il link qua sotto in descrizione così che possiate sentirli all'uscita non vedo perché aspettare a meno che non siate veramente di una pegrizia pazzesca per il resto vi ricordo di seguire le mie uscite tutte le mie pubblicazioni mi trovate sia appunto su podcast che su youtube e per il resto ci sentiamo al prossimo episodio